ok io ce l'ho eh aspetta oh ce l'hai? si pronto ma come cazzo si attacca? devi prima piantarlo come si pianta? eh devi scherzare scegli posizionamento ok scegli posizionamento ma sto piantando eh ok ci vuole un po' eh a piazzarlo ragazzi si però devi dire no e poi lo dobbiamo far partire da dopo si mette prima piazza e poi far partire no a parte da solo volete farci morire quasi infarto testa di cazzo quindi che vi urlate lì abbiamo l'esplosivo in mano no no aspetta a sparare non sparare solo se si avvicina la porta non sparare l'altro è salito sulla macchina oh zitti si è acceso una macchina è sceso sparate lì no 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 ecco è risalito ragazzi guardate che adesso si apre i cancelli in mano ragazzi si sta avvicinando eh ma porco di che sfiga che avete cosa facciamo sono qua sono qua ci hanno visto mi hanno vista a me dalla finestra si è segnato stanno avvicinando quella porta eh boh copritemi la uscita ma che cazzo sono tutti e due dietro la porta non fanno wall bank dalla porta provaci carrozza massimo moriamo e sto venendo io ero fermissimo di tipo ho visto che mi ha passato davanti e tornati indietro stavano una visione l'altra tema se sai che notte non hai fatto nessun rumore e la sua famiglia mi è andata a visare l'altro non è che non ha avvisato attraverso la finestra ha capito ma ti ha visto che avrebbe visto avrebbe aperto la finestra avrebbe sciottato perché stai attaccando il c4 vieni qua vieni qua a piazzaro tu dai qualcosa di dorsi 4 la natale vado io senza niente quando si qua non dice vengono chiama se falco che falco rai mettato distanza il tiro ok secolo son coperto appunto basta possiamo 500 anche da qua vero contro l'arco vieni fox dove sei sono qua a non farti spottare così mezzi campi minchia o ehi ma figurati se mi vede mi avrebbe già sparato sembra strano che secondo me hanno uno sloggato no no mi camminavano che bello grazie 300 metri togli i colpini e falco che non vedo bene la base è quello il canzello no? no e avevano visto uno che si muoveva si che è un mirino da cazzo in più si erano verso di me raga si vi faccio di me con un po' cosa di silenziato grazie a tutti